Grande successo per il concorso Il mio presepe, promosso dalla Proloco di Coppito e giunto alla sua quarta edizione, curato da Medeo Seccia. Complessivamente sono stati quest'anno 48 presepe in concorso, divisi in tre categorie, privati, associazioni, gruppi e scuole e juniores. La premiazione dei vincitori c'è stata nel casale di Morata Gigotti a Coppito. Per la categoria privati si è giudicato il primo premio Lorella Reato. Per la categoria gruppi, associazioni e scuole, i padri francescani della Basilica di San Bernardino da Siena. Per la categoria juniores, il primo premio è andato a Chiara Panella. Una menzione speciale per la scuola dell'infanzia di Coppito che ha allestito un presepe con materiali di riciclo. La manifestazione è stata agliettata dalle note del gruppo musicale diretto dal maestro Vincenzo Guglielmi. È piaciuto molto, ha fatto parlare di sé, il presepe che ha vinto la categoria privati di Lorella Reato. Un presepe che si sviluppa in un'intera stanza della casa di Lorella, 4,20 m per 2 di profondità. Un paese vivo nel quale lavora almeno tre mesi l'anno, principalmente di notte, e lo sta costruendo da oltre 20 anni. Statue di resina alte 12 cm e poi le articola con i movimenti. Le case, ricche di bifore, sono realizzate in polistirane estruso. Lorella le disegna, le colore, le arricchisca con portoni e finestri e poi le taglia con il termocut. Lorella le disegna, il presepe che si sviluppa in polistirane estruso. Lorella le disegna, il presepe che si sviluppa in polistirane estruso.